ragazzi piccola premessa a scopo informativo purtroppo in questo video l'audio è una merda è una merda perché non mi va il microfono delle cuffie non so perché devo settarlo c'è qualcosa che non va nel programma di registrazione comunque e purtroppo devo usare il microfono della usb all'inizio non me ne hanno neanche refato comunque spero che vi possa piacere lo stesso il video e vi lascio le due partite e benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Dead by Daylight siamo a Halloween penso che verrà caricato in questo periodo qua comunque con un gameplay con un killer che tra l'altro preso da poco e mi sta piacendo un casino che è come già si vede il nostro maierzerino allora per l'evento mi metterò qualcosa di decente intanto cerchiamo una lobby eccoci qui ragazzi abbiamo messo questa roba qua anche i perche non sono al massimo anzi boh quelli che mi sono piaciuti più di quelli che ho e secondo me possiamo partire vediamo che abbiamo contro e che voi in Glauderina no 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 vabbè abbiamo salvini contro la nera tra l'altro caldetta la nera no vabbè ma io io devo lasciarla scappare quella non ci voglio credere ed eccoci qui in partita io spero non si senta troppo casino sul microfono perché ho notato che è il rumore del Matteo Salvini si è disconnesso ma come ma dai ma voglio registrare una partita e vieni a fare una merda così vabbè dai al massimo ne faccio anche un'altra roba tanto vediamo di non puzzare troppo qua Matteo Salvini ha visto una mappa brutta e ha detto no guarda a casa loro non voglio giocare in questa mappa è uno quello laggiù vorrei aver visto uno si si guarda la come se la gira ovviamente il telefono rompe le palle vabbè no baby baby bello che sono scemi si si questi qua vogliono formare capito no perché Matteo Salvini mi ha quitato io sono un pezzo di merda che non faccio formare eh mi ha quitato compagno adesso Mario fa anche il giro dei pad te lo vuoi vedere mi sfotte anche magari sai qualcuno qua ha sbagliato no mi dispiace ma non mi va di far far male sto anche registrando va in culo Dio mio voglio registrare una partita mi si mette contro il mondo gli hanno dato il coro di già chi è qua dove cazzo è andato ah mi ha fatto prendere un colpo mi dispiace a Benta guarda sto giocando abbastanza cazzo onestamente avrei potuto prendere sull'altra e dove c'è arrivare al secondo uncino ma tanto è è una partita che ci sono già due uncini non hanno fatto neanche un genere non hanno neanche iniziato probabilmente qualcuno di loro avrà anche il ruin guarda guarda qua ho visto una testa ma mi parla sono scemo io ho visto una testa qua così guarda guarda no no sono scemo mi dispiace ma ma incastrati incastrati brava guarda quegli stronzi che vanno vanno su monster hunter guarda guarda che formoni di merda guarda guarda che schifo avete visto aspetta che sono scemo per dire le stronzate non si fanno schifo da soli dai muori che hai rotto i coglioni hai rotto i coglioni troppo dai non ti rigio questo sbagliato mi dispiace hai fatto dai usiamo il design dai usalo brava dai oh no no non lo usi va bene buon allora stai qua gli sbagliano i gen ciao ciao mamma mia ma che 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 nabbi che nabbi almeno prova faccia scappare scappare avanti l'altra su questo qua chiunque becco se riesco a tronare uno morto guarda qua guarda qua furbo guarda qua furbo furbizia guarda guarda furbizia vediamo se c'è il pallet qua non so se c'è ancora a prescindere il tuo t-shot quindi muori vuole che ti fa bene morire allora vediamo se c'è gli uncini quelli anche se ormai io non riesco più ho iniziato troppo tardi a formarmi queste robe qua ma sono quattro giorni e tipo non sono neanche a 30 andiamo di là dai salva salva no dai ti prego che finiamo sta partita in maniera rapida mori tu mori mori boh dai non dovrebbe fare in tempo andiamo a far morire l'altra chi se ne frega i campionati è una partita che non possono vincere e non li lascio formare e tu sei un'altra cosa scema e con i tuoi problemi mi dispiace dirtelo ma eh vabbè qua mi hai fregato non ci provare a salvare la tipa che non voglio parlare di tempo bocciare e allora dove andiamo dove andiamo dove andiamo allora quello facciamo quello facciamo muori va bene vabbè raga facciamo un'altra non si può vedere come è partita avrei potuto aspettare per mettere la nostra lasciato andare ragazzi ragazzi vabbè questa qua questa qua non si chiamava questa qua diciamo che è un killer si non è sto ho potuto lasciarmi scappare almeno uno o lasciarli scappare what mi hanno fatto i complimenti per una partita così ma rega ok ragazzi facciamo un'altra partita perché quella di prima è stata una partita depressiva in un modo assurdo dato che il nostro ministro dell'interno Matteo Salvini ha deciso di quittare a inizio partita ed eccoci qui nella seconda partita a questo giorno ho messo il muore verde tra l'altro lo scriverò a inizio video che mi sono accorto dato che per mangiare dell'editing questa partita sta registrata il giorno dopo di quella di prima per mangiare dell'editing sarà un video unico comunque il microfono quello che di solito uso delle cuffie sul programma di registrazione non mi va e sto usando il microfono della USB che ho provato a sentire il vecchio video e è orribile però non mi va di di buttarli come video perché erano anche una parità allo stesso tempo brutta ma carina eccoci qui in partita vediamo che io non faccio manzare perché la partita l'ho fatto ieri con quegli italiani è andata bene però ha quitato Matteo Salvini mi ricordo quindi non non ha conto neanche quasi lì ho visto già uno hello boy vai 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 fatti vedere lì ah no è furbo no non troppo guarda ma mi sono attaccato porca puttana sentì sentì arca troia ma dai dio cristo iddio porca puttana un cretino un cretino così non mi prendeva nei colpi ho fatto ho fatto uno schifo ho fatto figura di merda perdere tempo con un deficiente neanche bravo perché sto continuando di girare intorno quel pallet lì e lo avrei preso benissimo vado salviamo la gente sotto il culo no guarda puoi anche andare a fanculo ma fanculo facciamo 360 così ma non riescono a puntarmi la torta se la hanno perché sti qua sono sempre pronti tutti i tre lì comunque ah fanculo ti faccio morire sì sì ma ti campero anche non mi vergogno di camperarti perché ho perso tempo per un cretino per uno che non sa giocare e io ma allora vabbè senti diamo un cenero o un altro ripeto per uno che non sa giocare eh vaffanculo non volevo qui come procedi qui come procedi qui come procedi eh dove cazzo è che non me la grabba neanche qua c'è gem pure che è bello in funzione quindi adesso lo spesto allora là c'è il cretino non aspettiamo il gen andiamo a prendere sto becille qua chi è che la verina eh vabbè ma te li sanno subito cretina pure quella con le size beh eh no 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 era partito eh vaffanculo allora e avanti questo pallet che cazzo è che cazzo è donna che a fondo che ha no 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 tutti quanti qua va bene avete rotti i coglioni se mi intanto che sti costano qua e me la salvano subito salvatelo vuole vedere che cazzo è andato troppo che con uncinate miste ora ho trovato Nina che l'ho persa e qua c'è anche il basement qua c'è anche il basement l'ho visto prima che eravamo non c'è il basement ma stai scherzando ma c'è avevo sbagliato lato e nabbo e nabbo ok quello è lì gli altri ci sono no torno più cinate miste questo qua la perdo perché ho incinato troppi devo far passare al secondo stadio almeno questa abbiamo uno qua uno qua e quello là in fondo non è proprio il top non mi fa di vedere nessuno abbiamo campionato questo però devo farla morire bene ne mancano due tre su quattro potrebbe essere assicurato ho fatto tanti errori in questa partita eh ho fatto un po' troppi errori però ce l'ho fatta alla fine non c'è marango uno quindi la botta è qua uh uh vantaggio tattico per me quanto sei scema da uno a diecimila quanti problemi hai vedi così devo fare con il primo lì che non riuscivo a prendere la palle questa qui non mi ricordo se è a secondoncino però no non è a secondoncino allora è veloce allora un'uscita è là e una è là e ha finito sto jack qua il tipo questo qua scappa e pensavo di camperarlo dalla botola ma no no ma che palle quando non puoi formarli nel tutto e adesso mori ma aspetta che visto che senza perdere troppo tempo ho visto che questa qua ha fatto i chilometri prendiamola su subito e la appendiamo e appendiamo anche l'altra mi dispiace ma contro Myers nulla può aver successo mi dispiace devo dire che non ho non ho giocato benissimo come ho già detto però 3 su 4 quindi vuol dire che ho giocato meglio di loro questo si ho altri palleterini da spaccare qua in giro perché io lascio in giro pallet roba ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mi dispiace bello tanto per la qualità audio che è proprio sotto zero però sono altre due partite carine da vedere insomma secondo me sono carine quindi lo pubblicherò lo stesso come video e spero di risolvere questo problemino e almeno da non sentire un casino o una voce che tipo ti spacca e timpani quando lo senti e ragazzi ci becchiamo al prossimo video bella ciao